Oggi prepariamo zucchine alla scapece Zucchine con il fiore le laviamo accuratamente e poi le andiamo a tagliare a rondelle Andiamo a friggere poco alla volta in olio bollente Lasciamoli dorare e poi le scolliamo su carta assorbente Sale, olio extravergine Aglio Menta Aceto di vino bianco Aceto di gaffa Aceto di vino bianco